Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, chiamato On the Road, Pipe Coding e Robotica Educativa, protagonisti a confronto verso soluzioni concrete, si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Fosto Gullo di Cosenza l'evento formativo in collaborazione con il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale, col patrocinio del Comune di Cosenza, rivolto ai dirigenti, agli animatori digitale e al team dell'innovazione digitale composto dai docenti individuati dalle istituzioni scolastiche, quali referenti per la didattica tecnologica innovativa. È un'iniziativa estremamente importante perché rientra proprio in questa diffusione del digitale nelle nostre scuole. È importante comunque che questa iniziativa si faccia proprio in un istituto comprensivo, proprio a sottolineare l'importanza che il pensiero computazionale, il coding, debba essere sviluppato e avviato il più precocemente possibile. Il pensiero computazionale, coding e robotica educativa è un'idea rivoluzionaria che trasforma il linguaggio astruso, la programmazione assistita al calcolatore, quella sintassi complicata in qualcosa che i bambini conoscono bene, come i mattoncini delle costruzioni. Sin dalle scuole primarie si può pensare addirittura di utilizzare attraverso il pipe coding, attraverso il coding unplugged, quindi senza l'utilizzo dei devices, già sin dalla scuola dell'infanzia. Quindi noi mettiamo a disposizione di questa iniziativa anche l'esperienza che abbiamo maturato nel campo, sia dal punto di vista della formazione dei docenti che dal punto di vista delle strutture esistenti in questa scuola.